Sicuramente avremmo sentito parlare tutti di iperammortamento. Che cosa manca? Mancano le persone che siano in grado di far funzionare queste tecnologie. L'industria 4.0 è un nuovo modo di produrre che grazie a un mix tecnologico di automazione, informazione, connessione e programmazione porterà le aziende verso la quarta rivoluzione industriale. Le fabbriche infatti sono sempre più digitali e interconnesse e la nuova trasformazione porterà le aziende a dover gestire sia le risorse umane che quelle virtuali. Per coloro che hanno una passione per le nuove tecnologie, a Fano c'è un istituto tecnico superiore, un'accademia di alta specializzazione tecnologica. Questa tipologia di istituti è stata voluta dal Ministero dell'Istruzione per formare figure professionali specializzate, altamente richieste dal mercato del lavoro, proprio perché è in grado di accompagnare le imprese verso l'inderogabile trasformazione digitale. Quello fanese è un percorso biennale completamente gratuito perché finanziato dal Ministero e dalla Regione della durata complessiva di 1800 ore, di cui 790 in azienda e 450 in laboratorio. Rilascia un titolo di studio terziario con valore legale in tutta Europa e le materie di studio saranno incentrate su informatica, automazione, progettazione e sviluppo. Lo stesso corso è stato definito da dei progettisti, dagli ingegneri e anche dei professori universitari, ma in realtà l'ultima parola l'hanno avuta le imprese del territorio, cioè è stato modellato proprio sulle esigenze che hanno le imprese principali del nostro territorio, che fanno manifattura, manifattura avanzata, quindi meccanica di precisione, alta tecnologia, informatica e anche tutte le aziende, ad esempio del settore petrolchimico, che fanno automazione industriale e sappiamo che fanno, è stato per tantissimi anni ed è ancora un polo fondamentale nel panorama dell'industria mondiale. Quanti studenti riescono a trovare lavoro una volta conseguito questo titolo? Considerate che a livello nazionale la percentuale è superiore all'80% all'interno dei 12 mesi dal diploma. In realtà nel settore nostro le percentuali sono ancora più spinte, si parla di 85-87%. Quello che conta è avere proprio voglia di mettersi in gioco. È una didattica dinamica, invertita, dove lo studente intanto non sta più in lezione frontale e soprattutto interagisce costantemente con il docente. Abbiamo addirittura un Fab Lab dentro la struttura, che permette proprio di volta in volta non solo di studiare una cosa, ma anche di realizzarla, di farla interagire e magari di portarla in azienda e di venderla. Entro quando è necessario iscriversi? La scadenza è improrogabile del 21 ottobre e ci sono a disposizione dai 25 ai 30 posti.